Ciao a tutti ragazzi, il vostro Polospal07 Genoa Spal 3-0 Lo so cosa state per dire Perché non hai fatto il video? Non ho fatto il video perché fondamentalmente secondo me, dal mio punto di vista fino a poco meno, qualche ora fa c'era veramente ben poco da commentare ho quasi pensato di saltare il video per per protesta perché una squadra del genere che non ha né capo né coda che veramente non si può vedere una squadra che sull'1-0 dopo aver retto anche tutto sommato bene per 77 minuti prende il suo solito gol su errore difensivo poi dopo la fine del tutto crolla, ci molla, gliela da su e non proprio non abbosta niente c'è proprio niente sinonimo anche secondo me di mancanza di rispetto verso chi è andato a Genova ieri però ho comunque voluto fare un video adesso più che altro per una breaking news un video che comunque alla fine avrei fatto lo stesso perché un piccolo commento nonostante non si sia visto niente è stato fatto andava fatto perché se della partita non c'è niente di nuovo da commentare nel senso che la Spal perde meritatamente 3-0 dal Genoa che insomma dopo 76 minuti riesce a fare il primo vero tiro pericoloso verso la porta della Spal che si scioglie complice anche una una sbarcata di infortuni su tutti si è rotto di nuovo Barnier si è rotto Valzania si è rotto addirittura il portiere Alfonso quindi è entrato Brasau Meravigliau che si era definito un portiere completo qui e là a Papera sul 3-0 più che altro è perché dopo le svariate voci che hanno cominciato a correre più che altro nella mattinata di oggi alla fine sembra quasi non è ancora ufficiale ma praticamente poco ci manca che Tacopina alla fine caccia Fabio Lupo nel senso che esonera Fabio Lupo dal ruolo di direttore sportivo è una scelta che non vuol dire niente non significa niente è solo una scelta di immagine puramente di quasi di emissione all'errore per dare il contentino alla piazza secondo me perché alla fine oramai il ruolo del DS è finito è troppo tardi per fare qualsiasi cosa nel senso che oramai il mercato è chiuso non si possono fare acquisti non si può più fare niente è stato un esonero puramente simbolico individuato come capo respiratorio sicuramente è quello che ha maggiori colpe ma un ennesimo esonero senza senso come quello di Venturato come quello di De Rossi sia per tempi che per modi una cosa è certa a Ferrara società SPAL in questo momento regna il caos totale ha sempre regnato il caos totale e stiamo andando sempre di più in quella direzione all'inizio teniamo un allenatore per intanto cambiamo un DS ci mettiamo a capo sto qua che non si sa bene cosa avesse fatto avesse fatto di così strabiliante prima che tiene Venturato contro voglia gli fa la squadra poi lo esonera poi prende De Rossi non gli fa la squadra poi lo esonera il tutto con l'americano che è assolutamente complice di questa cosa perché poi alla fine le decisioni le prende lui caos totale nessun tipo di programmazione il clima ideale per retrocedere ragazzi perché oramai mi sento di dire questo non ho voluto nominare fino adesso io ci credo fino alla fine ci crederò fino all'ultima giornata ma il destino della spada ragazzi cosa vi devo dire a me sembra segnato cioè oramai cosa possiamo chiedere di più a questa squadra di così niente ed è poco per salvarsi io voglio cercare di essere ottimista ma non so neanche se crederci più secondo me quest'anno la spal sicuramente bocciata e oramai la retrocessione è un passo anche per oggi se andate alla fine del video scrivetemi nei commenti cosa ne pensate noi ci vediamo al prossimo video sempre forza spal ciao